Nel 2007 un imprenditore, Rocco Greco, trova la forza di denunciare a Gela gli estorsori della sua azienda. Nasce un'inchiesta, da quella inchiesta 11 imputati, 134 anni di condanne complessive. Quell'uomo si è tolto la vita il 27 febbraio. Il perché ce lo spiega Valeria che strugge nella sua scheda. Rocco Greco, 57 anni, faceva imprese in un territorio difficile e aveva trovato il coraggio di opporsi a chi gli chiedeva il pizzo. Nel 2007 era stato tra i protagonisti della cosiddetta Primavera di Gela, un movimento di ribellione alla mafia e alla stidda, nato da imprenditori coraggiosi che avevano deciso di denunciare. E proprio grazie alla denuncia di Greco erano finiti in carcere ben 11 mafiosi, condannati nell'ambito dell'inchiesta Mundamundis, quegli stessi che dal carcere avevano lanciato accuse nei suoi confronti. Rocco, che tutti conoscevano come Riccardo, era finito sotto inchiesta. Assolto in primo grado, era in attesa dell'udienza per il secondo grado di giudizio, che si riteneva avrebbe confermato l'assoluzione. Nel frattempo però, a causa di queste accuse infamanti, la sua azienda era stata colpita da un provvedimento amministrativo di interdittiva. Greco aveva perso così tutte le commesse in appalti pubblici che già si era aggiudicato e si era visto costretto a licenziare ben 50 dipendenti. Un dolore indicibile. La mattina del 27 febbraio è uscito di casa alle 5.30, dicendo alla moglie che andava in azienda per controllare delle carte. Non sappiamo se quelle carte le abbia viste. Si è tolto la vita, proprio in quell'azienda per la quale aveva sempre combattuto. È una vicenda che ha portato molto dolore a noi. Immaginate cosa stia provando. Francesco Greco, che noi salutiamo da Gela, che è il figliolo di Rocco. Ingegnere, grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie al vostro tempo. In studio noi abbiamo una persona molto per bene. È un avvocato che io stimo da anni. Si chiama Iside Castagnola, che io ringrazio. Dire l'avvocato antimafia non ha senso. Gli avvocati stanno dalla parte della legge e un avvocato non può stare dalla parte della mafia. E Don Maurizio Patriciano, che io ringrazio da profondo lettore. Permettete di iniziare con l'ingegnere greco. Cosia, ma lo vedete questo? È il nome dell'azienda di papà. Francesco, si deve ripartire, vero? Sì. Voi da dove iniziate? Sì, noi abbiamo questa intenzione, che poi era un po' il desiderio nel cuore di papà di continuare l'attività aziendale. Siamo un'azienda giovanissima, anche se ha una storia che parte dagli anni Ottanta. Negli ultimi anni io e mia sorella Paola abbiamo completato gli studi in ingegneria e quindi siamo entrati a pieno titolo in azienda a dare un po' una mano a papà e mamma che invece lavorano qui da diversi anni. Eravamo ripartiti, abbiamo cercato di portare tanta innovazione, una boccata d'ossigeno nuova in azienda che per qualche anno ha avuto poche commesse, invece negli ultimi anni eravamo ripartiti veramente bene. Fino a quando nel dicembre scorso ci arriva questa informativa antimafia a seguito di un'iscrizione che noi abbiamo fatto per la ricostruzione post-sisma, quindi nei paesi dei comuni del centro Italia. Di lì è iniziato un piccolo calvario che pensavamo potesse avere un epilogo diverso, sicuramente di qualche mese, però mai potevamo pensare o immaginare che insomma potesse finire così il 27 febbraio. Francesco, nessuno di voi poteva neanche immaginare lontanamente che papà prendesse questa decisione, perché papà era uno che amava la vita, amava i suoi dipendenti come dei figli. Posso chiederle da dove ripartite voi? Da quali mattoni cominciate a ricostruire? Anche il vostro cuore che immagino sia ferito. Sicuramente non è facile, sicuramente ripartiamo da questa grande famiglia che anche grazie al contributo di papà è stata costruita, quindi una famiglia all'interno della nostra impresa fatta di dipendenti, di giovanissimi professionisti, di architetti, ingegneri. Pensate, io ho 27 anni e sono uno dei più grandi qui in azienda, ma abbiamo anche ragazzi molto più giovani, neolaureati che veramente sono delle figure validissime. Oltre a questo, da quando siamo stati costretti nel gennaio scorso a procedere con i licenziamenti forzati a seguito della riscissione dei contratti, quindi è lo stop delle commesse, tutta questa gente che comunque per noi sono anche degli amici, sono anche quasi dei familiari, ci è rimasta vicina, ne abbiamo parlato con gli altri e sebbene loro fossero stati licenziati abbiamo provato a ripartire, abbiamo provato comunque a portare avanti quegli impegni che erano stati presi in maniera del tutto gratuita. Francesco, le dico che questa voce c'era arrivata, noi tra un po' verremo nella sua azienda e abbiamo voluto saperne di più. Faccio una parentesi e mi rivolgo all'avvocato Castagnola. Avvocato, entrare nel merito di questa vicenda sarebbe troppo difficile, però il mondo si sta domandando. Un uomo che ha avuto il coraggio di denunciare, un uomo che ha messo in moto un'indagine mostruosa, enorme, grazie alla quale altri imprenditori hanno avuto il coraggio di uscire allo scoperto. È nata un'inchiesta, sono nate delle condanne, siamo arrivati a delle condanne e poi dopo si trova con questa decisione di essere fermato in attesa di provvedimenti. Com'è possibile? Questo, tutto questo non toglie fiducia negli altri imprenditori perché si è arrivati a una cosa del genere? Si è arrivati a una cosa del genere perché sicuramente a quell'atto così grave, così come il suicidio, perché sicuramente l'imprenditore si è sentito da solo e da soli si muore. Si è sentito da solo al di là della vicenda giudiziaria perché sicuramente bisogna dare nuovo impulso alle associazioni anti-racket che non devono fare solamente bellissime manifestazioni commemorative che consentono a varie istituzioni politiche di fare vetrina e rappresentanza, ma bisogna concretamente stare vicino agli imprenditori, assisterli nella denuncia, stare ancora prima che decidano di denunciare accanto a loro e anche in seguito perché sa qual è la vendetta della mafia, sa qual è l'arma che usano, è quella di mettere l'ombra e a loro volta denunciare l'ombra della collusione fra le vittime. Mascheriare, c'era insegnato Paolo Borrometti. Cioè far capire che la persona che è stata vittima dell'estorsione era un loro complice, che è quello che hanno cercato di fare con l'imprenditore greco. Questo è successo con Greco? Questo è successo con Greco, è successo con Greco, qual è il problema? Il problema è che l'interdittiva antimafia, mi perdoni questo piccolo inciso tecnico, ma è importante spiegarlo un po' al pubblico. Allora è uno strumento preziosissimo, si è rivelato uno strumento prezioso negli anni perché ha fatto da filtro rispetto a quelle che sono le infiltrazioni mafiosi nei rapporti con la pubblica amministrazione. Per spiegarlo in soldoni, diciamo è una sorta di bollino che mette lo Stato sulla possibilità o meno che tu abbia la possibilità di poter lavorare, cioè se sei pulito ci stai, se sei soltanto, se si adombra soltanto un dubbio, ti fermi, non puoi partecipare. Dubbio, sospetto, la probabilità, probabilità che però chiaramente non è avvalorata da quella che è la prova, l'accertamento del reato penale. Ecco qui, qual è il vulnus? Cioè il problema è che la sanzione amministrativa in questi casi è sganciata dal processo penale e dalla prova chiaramente della sussistenza del reato. Come possiamo, come Stato, come istituzioni, stare a risolvere questo problema degli interdittivi? Innanzitutto ricordo che attualmente negli ultimi due anni, per farvi capire qual è il terreno difficile della Sicilia, un terreno a me ben conosciuto, perché parlo anche da siciliana, pensi un po', io sono cresciuta a mezz'ora da Gela, quindi conosco benissimo quel territorio e dicevo sempre ai miei genitori, dopo le stragi di Falcone e Borsellino che hanno caratterizzato la mia vita e i miei impegni antimafia in quest'ultimo ventennio, dicevo secondo me la Sicilia ha due imprenditori, non solo i magistrati, ma anche gli imprenditori onesti, perché dare lavoro, perché è facile, perché pensare solamente, perché un imprenditore onesto è quello che lavora e cerca di dare una prospettiva di speranza e di futuro a questi giovani, ma ha sentito il figlio di Greco, il problema è questo, di far emergere realmente questi giovani che hanno studiato, che non devono per forza andare al nord, la vera sconfitta della mafia è dimostrare che si può dare lavoro onestamente, in questo lo Stato deve essere religione. Ecco perché. Allora, avvocato, lei accenna ai padroni illuminati, bruttissima la voce dei padroni, a capi di piccole e grandi aziende come Greco, io vorrei portarla in quella struttura e guardo negli occhi Francesco, il figlio di Rocco, a gennaio vengono licenziati i 50 dipendenti e Dio solo sa il dolore che ha provato il suo papà, questi dipendenti licenziati sono rimasti al loro posto, noi siamo andati a sentirle, guardate e ascoltate le loro testimonianze. Io lavoro qui in Cosiam da due anni e mezzo, quando sono arrivato qui ero un neolaureato. Ho iniziato a lavorare in questa azienda 13 anni fa, quando avevo solo 19 anni, quindi mi ero appena diplomata, arrivai in azienda e il signor Greco mi fece il primo colloquio. Lui, ostre che il titolare, il datore di lavoro, era anche un padre, un secondo padre per noi. Infatti, diciamo, lui ha segnato una parte importante della mia vita. Qualsiasi tipo di problema che mi si trovava davanti, io ero l'unico, la prima cosa che facevo andavo in stanza da Riccardo e lui aveva, con la sua calma, era molto calma, una persona molto silenziosa, calma, dava la risposta a tutto. Sin da subito, io siccome non sono del posto, il tempo che io mi sistemassi qui a Gela mi ha invitato anche a pranzare a casa loro, a sedermi a tavolo con loro e non è una cosa che fanno tutti. Nell'ultimo periodo avevo visto che il signor Greco era un po' preoccupato per il futuro dell'azienda, lo vedevo un po' triste, con molte preoccupazioni. Pochi giorni prima che succedesse la tragedia, ho questo ricordo che lui, siccome ci hanno dovuto licenziare tutti, lui si è accertato con me, mi ha chiesto da me, ora adesso tu che farai. Abbiamo cercato di tenerelo su di morale, non ti preoccupare, anche se ci licenzi cose, noi siamo sempre accanto, infatti tutt'oggi noi siamo ancora qua, anche se non siamo più in un certo senso dipendenti della cosia, anche perché la famiglia non si lascia sola. Ingegner Greco, io le chiedo perdono perché credo che queste cose se da una parte sollevano il cuore, dall'altra io posso immaginare quanto sia dura, va anche a vedere queste cose, la domanda che viene, chi gliel'ha fatto fare al suo papà? Papà si è mai pentito di quello che ha fatto nonostante i tempi duri? Dica la verità. Guardi, io ho avuto modo di parlare diverse volte con papà, il suo calvario è iniziato vent'anni fa, poi è sfociato in una denuncia che nel 2007 ha scaturito tutta una serie di provvedimenti cautelari a carico di 11 esponenti dei clan mafiosi. Lui non è mai tornato indietro sui suoi passi e non ha mai dubitato di aver fatto la cosa giusta o sbagliata, quindi non ha mai posto una questione sull'argomento. Ci ha sempre insegnato a essere corretti, a essere onesti, a rispettare le regole, anche se a volte le regole sono costruite in maniera così complessa e articolata che forse talvolta è anche poco conveniente seguirle, però lui ci teneva a questo. Anche per le cose più semplici, più banali, diceva bisogna perderci un po' di tempo perché è così che si fa, perché è così che vanno fatte le cose. Io non penso che fino alla fine abbia dubitato, ho fatto la scelta giusta. L'amarezza è soltanto quella di essersi sentiti appunto abbandonati, essersi sentiti da soli dopo un percorso di coraggio che ha cambiato un po' il volto di questa città perché ricordiamolo, negli anni 90 a Gela ci sono stati 100 morti per strada, c'era gente che passeggiava e veniva colpita e moriva per proiettili vaganti, c'era l'esercito per strada a fare le ronde, quindi non era una situazione semplice. Dopodiché nel 2007 lui si fa capofila di un'iniziativa antimafia, convince altri 7 imprenditori a fare come lui e quindi a denunciare i propri estortori e lì praticamente c'è un cambio di rotta. Dopo questa iniziativa anche altri commercianti, imprenditori, professionisti si ribellano alla mafia e quindi oggi la normalità è quella che se arriva un mafioso in un'azienda, premesso che io non ne ho mai visto uno in carne e ossa da tre anni che sono qui in ufficio dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 22, se dovesse arrivare un mafioso io saprei benissimo cosa fare, andare dai carabinieri alla polizia e denunciarlo. E questa per noi oggi è la normalità, non cambia. È andata un'ottima risposta, la più giusta. Don Maurizio, ti ho lasciato... Prima non era così, prima non era così. C'è uno spartiacque, quello spartiacque è il suo papà, nonostante tutto. Don Maurizio, ti ho lasciato un attimo ad ascoltare, perché questo tarlo che mi ha messo in mente l'avvocato Castagnola, la solitudine, anche i luoghi che finiscono sotto i riflettori, quando ci sono associazioni che hanno il coraggio di uscire allo scoperto, è qualcosa che mi offende personalmente. Anche la Chiesa, forse in passato non è riuscita a capire certe cose e anche per uomini come te la vita non è facile, perché poi al massimo si può dire, la stessa Camorra dice questo è diventato pazzo, a fuori di lottare, a fuori di mettersi in mostra per questo problema. Tra qualche giorno saranno 25 anni che Don Peppino Diana è stato ucciso barbaramente e vigliaccamente in chiesa. Alla domanda che mi fanno i ragazzi a scuola, ma la Camorra è un camorrista? Chi è? Io rispondo sempre, è un uomo che non vale niente, è solamente un vigliacco. Pensate che quanto ci vuole ad andare in chiesa e uccidere alle spalle un prete che si sta preparando per celebrare la messa. Non ci vuole proprio niente. E però io ho già pronto un articolo da mandare ad avvenire per il giorno 19, in cui ho scritto Peppino non è stato un eroe, Peppino non si è mai avvertito come un eroe. Peppino è stato un uomo, un galantuomo, è stato veramente un prete. E per quanto possa sembrare strano, carissimi, guardate che la Camorra, la mafia, ha paura solamente delle persone indifese, delle persone però che non si piegano, che se si piegano si piegano davanti ai deboli, ai poveri, ai bambini. Insomma, queste persone qua, come anche Greco e anche il figlio che abbiamo la gioia di vedere questa mattina, queste persone qua fanno paura. Però pensa un po', se anziché essere solamente l'ingegnere Greco, l'imprenditore Greco, ma fossero tutti quanti gli imprenditori accanto a Greco. È stato bellissimo ascoltare quel dipendente che dice ma una famiglia non si lascia nel momento del bisogno. Allora se siamo... non è che non servono, gli eroi non servono. Diceva Curzio Malaparti alla fine della Seconda Guerra Mondiale e adesso tutti coloro che applaudivano prima hanno applaudito i tedeschi, stanno adesso ad applaudire gli americani e i russi. Queste persone non ci servono, servono gli esseri umani, le persone che hanno a cuore la dignità dell'essere umano. Per cui di mafia e di camorra, noi siamo ancora qua nel 2019 a parlare di mafia, ma di che cosa stiamo dicendo a parlare di camorra? Ancora c'è sta gente che si presenta in un'azienda e tu mi dai, ti do che cosa? Ti do che cosa? Ma ti do che cosa? Questa sottolineatura di Don Maurizio sugli eroi e fondamentali. Don Peppe Diana sarebbe inorridito alla definizione di eroe e conoscendo attraverso anche gli occhi e le parole del figlio Francesco, Rocco Greco non avrebbe voluto essere chiamato eroe. Tra un po' avremo una testimonianza esclusiva a cui io personalmente tengo tantissimo, quella di Enza, la moglie di Rocco, è la prima volta, pensate che sui giornali non trovate neanche il suo nome, c'è un pochino di pubblicità e poi restate con noi, per favore. Il signore che vedete alle nostre spalle si chiama Francesca Greco, l'ingegnere, ed è il figlio di Rocco, che è un imprenditore anti-racket come si vogliono etichettare, che vedete l'articolo del Corri della Sera si è tolto la vita il 27 di febbraio. Ospite in studio, oltre a Don Maurizio Patricello, anche l'avvocato Iside Castagnola, di cui ho bisogno, perché la mafia che spara sempre di meno, ma che colpisce sempre di più, accusando gli imprenditori che l'hanno denunciata di connivenze, come hanno fatto con Greco, è una mafia che dovrebbe fare ancora più paura, avvocato sì o no? Sì, perché comunque sta alterando gravemente il mercato, perché altera il principio di libera concorrenza fra le imprese e il mercato stesso, ma soprattutto che mette in sinua sempre l'ombra della collusione nelle vittime. Però mi lasci fare un aspicio, perché altrimenti non onoriamo bene la memoria di Rocco Greco che è morto. Io spero che il figlio non si scoraggi e spero di leggere tra due anni che diventi il nuovo presidente dell'associazione anti-racket Giordano. Perché penso che Greco bisogna ricordarlo così, non con senso di sconfitta, ma rilanciare la sfida alla mafia e dire non ci fermiamo. Comunque crediamo ancora nelle istituzioni e nello Stato, è però chiedere aiuto sempre di più allo Stato. Spero che il prefetto apra ai tavoli, apre ancora di più il palazzo della legalità, la prefettura, alle associazioni di categoria. Avvocato, lei cosa farebbe come prima cosa se fosse, a lei se ne avesse la possibilità? Lei da dove ripartirebbe? Questa cosa della solitudine, da qui dentro, da dove ripartirebbe? Per aprire uno spiraglio di luce ai tanti imprenditori, alcuni dei quali dopo la morte di Greco hanno detto, se dovessimo tornare indietro non lo faremmo più. E questo è gravissimo. È gravissimo e non bisogna accedere a questa tentazione perché è questo che la mafia vuole. Cioè dimostrare che comunque loro sono più forti. E allora io se fossi il figlio di Greco, e spero che lo faccia, unirei tutta l'associazione di categoria degli imprenditori siciliani e chiedere incontri ufficiali al prefetto affinché si facciano delle azioni incisive sul territorio. Azioni di controllo perché tutt'oggi, Gela come tutta la Sicilia, ha nell'estorsione, nel traffico di droga il banco mat della mafia. Ed è importante fare delle azioni ammirate nei tavoli della sicurezza e soprattutto rilanciare l'attività nella società civile. Perché comunque questo imprenditore si è sentito da sole abbandonato anche dalla società civile. Quindi è importante che il Libera, ci sono bellissime associazioni antimafia, Addio Pizzo, Libera contro le mafie, anche quell'associazione a cui fece parte lo stesso Rocco Greco, riuscì a coinvolgere altri sette imprenditori. Dobbiamo ricordarlo così. La primavera sta sbocciando, deve tornare a sbocciare, questa è la nostra, più che una specie, una quasi certezza. Noi abbiamo chiesto uno sforzo in più alla famiglia, Greco. Oggi siamo tutti famiglia Greco. Abbiamo chiesto a Enza, questa moglie bellissima, di ricordarci Rocco. Il ritratto che esce è questo che ascoltate adesso. Con mio marito siamo stati insieme solo 43 anni. Ci siamo conosciuti nel 1976 e ci siamo fatti fidanzati. Io avevo 14 anni, lui 15. Un uomo buono, un uomo che ci teneva tantissimo alla famiglia. Un uomo che lavorava dalla mattina alla sera, che dignitosamente, con onestà, ha inculcato a tutti, prima di tutto a me e poi ai suoi figli, mano a mano sono venuti al mondo, l'onestà, la dignità e il lavoro. Ho detto ieri a mia figlia, troveremo tuo padre in un'altra dimensione, con la preghiera. Noi adesso preghiamo più di prima per la sua anima e perché la nostra famiglia abbia veramente forza nel ritrovare il coraggio di vivere, senza di lui, perché noi eravamo tranquilli con lui. Chiederò dono al Signore del perdono, lui non ce la doveva fare perché noi lo amavamo così tanto che insieme avremmo potuto sorpassare qualsiasi barriera. Guardando al futuro, cercheremo di salire questa montagna che volevamo salire in cinque, la saliremo in quattro. Il Signore ci darà tanta forza perché la modalità con cui mio marito è andato a Gesù non era proprio quella che il Signore ci dona. Però la misericordia di Dio, io credo tanto nella misericordia del Signore, lo accoglierà, spero e prego, nella sua gloria. Grazie di cuore Enza, grazie a Giancarlo Mogavero che ci ha creato tutto questo. Francesco verrò da lei tra un minuto. Don Maurizio, ti faccio fare il prete con una domanda che una bambina di quattro anni forse farebbe. Il paradiso è anche per Rocco Greco. Perché non dovrebbe essere anche per Rocco Greco, scusami? Chi può sapere che cosa è passato nel cuore, nella mente di questo papà, di questo marito, di questo imprenditore, di questi italiani in quel momento là. In fondo questo gesto che noi non possiamo mai approvare perché non possiamo dire che nessuna persona ha il diritto di togliere la vita a un altro e neanche a se stesso. Ma che cosa lo ha spinto a questo? Come si è sentito? In quel momento l'ha interpretato questo gesto forse come un dono per i suoi figli, per sua moglie, per i suoi operai. Forse ha voluto anche attraverso questo gesto richiamare gli italiani a dire ma volete fare gli italiani? Chiamare i nostri politici a dire ma volete fare veramente i politici? Chiamare il nostro governo a dire ma vuoi fare veramente il governo? Perché guarda, la mafia e la camorra, abbiamo già detto prima, i camorrisi e i mafiosi sono dei grandi vigliacchi. Che cosa fanno? Sporcono, insozzano. Parlando di Don Peppino Diana io ho detto è stato ucciso due volte, è stato ucciso la prima volta con la calunnia, poi è stato ucciso anche con la pistola. Ma in genere adesso anche si preferisce la calunnia. Se una persona viene infancata, vedi io adesso sto qua in televisione, tanti italiani mi stanno vedendo, penso che domani mattina uscirà sul giornale che Don Maurizio Patriciello è un pedofilo. E pensa a sta gente che dirà ma come? L'abbiamo visto là, sembrava così. Intanto il dubbio si è insinuato, il dubbio si è insinuato e anche tu stessa dirai ma io non ci credo e tu dirai non ci crede, l'altro dirà chissà se è vero e l'altro, ma intanto il dubbio si è insinuato e pian piano questa serpe velenosa farà il suo lavoro. Questo è quello che non deve succedere a questi fratelli imprenditori. Perciò o stanno insieme, perché anche i colleghi di Greco che magari per l'amor del cielo diceva Don Abbondio il coraggio uno non se lo può dare. Noi non è che pretendiamo che le persone siano tutte quante coraggiose, però è normale che se sta insieme si vince, perché qua è proprio la solitudine che bisogna combattere. Francesco, sono permessa di fare questa domanda perché arrivasse la consolazione di questo studio alla sua mamma, a lei e a sua sorella Paola. Mamma ha detto una parola bellissima, dignità. Che cos'è per un giovane imprenditore come lei, figlio di un uomo perbene come suo padre, che cos'è la dignità? Me lo racconta? Io quando ho fatto il saluto a papà durante la sua ultima messa giorno 28 febbraio ho raccontato un piccolo aneddoto. Ricordo che eravamo in cantiere, io avevo 7-8 anni forse. Amavo andare con lui perché mi piaceva vedere tutto questo mondo fatto di escavatori, di pale, di camion, era bellissimo e quindi mi piaceva andare con lui. A un certo punto erano le 5 del pomeriggio, ero stanco, ero fuori dalla mattina con lui e quindi mi ero poggiato su un marciapiede per riposarmi. Allora lui arriva e mi dice, fra che stai facendo lì seduto? Alzati subito, perché non si deve stare mai seduti davanti a gente che lavora. Io avevo 7 anni però questa cosa me la porto nel cuore e me la ripeto quasi ogni mattina. Dio la benedica, porti la sua carezza anche a mamma e a Paola. Noi siamo stati onorati di poter raccontare del suo papà. Onorati di avere Don Maurizio Patriciello, onoratissimi di avere una donna come Iside Castagnola che sono 20 anni che ci mette la faccia in tutto questo. E ci vedremo presto, ne sono assolutamente certa. Vi ricordo che la vita è fatta di tante pagine, noi ne apriamo un altro perché chi ha un sogno, l'abbiamo parlato di quello di Rocco Greco ma chi ha un sogno nel cuore, prima o poi se Dio l'aiuta riesce a coronarlo e qui verrà un grande talento a ricordarci il suo. Maria Matancredi, guardate.